Stretta maggiore sui bar e fasce orarie per fare jogging, è quanto emerge dall'ultima ordinanza, la numero 78, firmata ieri dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. L'ultima decisione del governatore non fa altro che adeguare la normativa regionale al DPCM disposto da Conte il 13 ottobre 2020. È stato quindi modificato l'orario di chiusura serale per ristoranti, pub, pizzerie e vinerie che potranno restare aperti fino a mezzanotte se con servizio al tavolo ma dovranno chiudere alle 21 se sprovvisti i posti a sedere. Bar e pasticcerie invece dovranno restare chiusi dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino. Nel weekend l'orario si estende fino a mezzanotte se muniti di servizio al tavolo altrimenti la chiusura è fissata sempre alle 21. Cambiamenti poco significativi per la Campania che aveva anticipato il cosiddetto coprifuoco già da una settimana. Invariata anche la questione matrimoni. Nella nuova ordinanza si fa infatti riferimento a quella del 3 ottobre e alle disposizioni in essa contenute. Tuttavia il numero di partecipanti consentito è ridotto a 30 invitati così come disposto sempre dall'ultimo DPCM. Le vere novità dell'ordinanza di ieri sono per quanto riguarda l'attività fisica. È disposto infatti che esercizi come jogging e corsa in luoghi non isolati come parchi pubblici, centri cittadini e lungomari potranno essere svolti solo dalle 6 alle 8 e 30 del mattino. Nessun orario invece se in luoghi isolati pur rispettando le consente norme sul distanziamento. Specifica infine per le sale gioco e per i centri scommesse. L'ordinanza dispone che anche i gestori di questa categoria di esercizi dovranno misurare la temperatura all'ingresso e vigilare per impedire qualunque tipo di assembramento dentro e fuori il locale. Restrizioni dovute al continuo aumento della curva di contagi. Solo ieri la Campania ha registrato 818 nuovi positivi. Picco ieri in tutta Italia che ha superato quota 7.000 contagi, con la Lombardia di nuovo in testa con 1.844 nuovi positivi di cui 1.000 solo a Milano. Il governatore Fontana non ha escluso la possibilità di chiudere la città in un nuovo lockdown. La preoccupazione maggiore è comunque per le scuole. Tanti sono gli istituti che aprono a singhiozzo in base ai vari contagi registrati fra docenti ed alunni. La ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, però, sembra decisa sul non voler fare dietro front. I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola, annuncia, e ci devono rimanere. I numeri e l'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. Il governo sta favorendo la diffusione della Pimmuni per tenere sotto controllo la cantera del contagio. Al momento, solo il 18% degli italiani ha scaricato ed attivato il programma. Nel suo ultimo intervento, il Premier Conte ha ribadito l'utilità dell'applicazione, definendo un obbligo morale partecipare al programma e ribadendo che privacy e dati personali non saranno messi in pericolo.